Devi diventare, cioè la guerra psicologica nasce dal fatto che tu devi fare dire delle cose che normalmente le persone o non si aspettano che tu dica e faccia, oppure se le aspettano ma tu non le vuoi dire perché magari sono oltre. Cioè il marketing è esagerazione, infatti fare marketing in modo sommesso non funziona, non è che quando dicono a me non piace Big Luca perché il suo marketing è troppo aggressivo, ragazzi è detto da persone che sono morti di fame, a me dispiace poi dire questa cosa, però è così, se voi ci fate caso è così, non è che loro sono più etici, è che non sanno fare, ma il marketing è esagerazione, è pugno in faccia, guardami, guarda che sono qui, quindi tutto deve essere a quel livello, quindi una tua comparsata da qualche parte deve seguire queste regole perché se no non funziona più niente, anche perché il guru business, cioè il personaggio che tira deve avere delle cose, cioè il personaggio che tira non può essere normale perché se no tirerebbero tutti, vorrei che questa cosa passasse. E quindi la vostra preparazione, cioè esiste il livello ragazzi amatoriale, no? Dove faccio dei video di YouTube, la gente mi segue, poi c'è chi invece ci lavora con sta roba, ci fa del business, cioè aspetta, cioè quanti sono, chi sono, si aspettano, pubblico, che età, no? Cosa vogliamo ottenere, quindi dobbiamo fare questo, questo e questa, bisogna anche saperle le cose, guerra psicologica fai se sei uno sfigato. Ragazzi, però facciamo i corsi apposta, no? I nostri corsi non insegnano, non le trovate, soprattutto contenuti di guerra psicologica, non lo trovate gratis, raga, mi spiace smitizzare questa cosa qui, adesso non vorrei dirvelo. Ah, si trova tutto gratis? No, non si trova tutto gratis. E infatti, no? In media, gli studenti di Big Luca e Big Luca tendono a fare, ad avere dei risultati che se vedete di media gli altri magari non hanno. Cioè è anche un po' la verità, non è un caso. Se voi dite si trova tutto gratis, non ha senso niente dopo. Allora perché hanno cose così diverse? Se invece voi dite non si trova tutto gratis, effettivamente la formazione di Big Luca è diversa, ecco qui che è spiegato tutto il resto, perciò è la migliore spiegazione. Ho fatto anche una lezione di... no? No perché, sapete, cioè se uno parte dalla premessa sbagliata, lo capite perché al posto di avere un potere di spiegazione, non spiega niente. Quindi quando avete la spiegazione sbagliata, tutte le variabili che dovevate spiegare, alcune variabili diventano inspiegabili. Quando invece la spiegazione è giusta, le spiega tutte. È uno dei modi per verificare quale sia la migliore spiegazione. explanatory power, explanatory scope, andatevele a tradurre, eccetera. Perciò dovete anche imparare le certe cose. È una mentalità che si acquisisce, c'è una simbologia del potere, perché fondamentalmente voi dovete essere percepiti come più in alto. Non ce n'è. C'è chi per esempio non gli va bene. E allora va bene. Ma non ti danno i soldi. Volete fare il formatore marketing? Volete fare quello che è? Se siete percepiti come loro e se siete percepiti come il loro amico che è un po' più bravo e gli chiedo dei consigli quando voglio, sì vi daranno magari qualche soldo, ma nessuno è mai diventato ricco così. Se invece voi siete percepiti come il guru sulla montagna, bisogna andare da Big Luca. Quanto costa Big Luca? Vedere, c'è la selezione. È così. Sì, è così. Perciò è una scelta che dovete prendere e dovete, anche perché poi tutti fanno questa cosa qui. Certi la fanno solo un po', oppure la fanno su... Quelli per esempio, le persone giustamente non lo sanno, dovremmo fare dei video su questa cosa, ma non perché ce l'abbiamo a male, è proprio per farvi capire, no? Le persone per esempio che l'amenano sull'etica, no? I vari youtuber, non sono etici ragazzi, loro si scelgono quella balla lì da dire dove puntare perché credono che dicendo questo abbiano un risultato. Il problema è che non ce l'hanno, perché? Perché non ve ne frega niente. Non comprate da quelli di Dubai, comprate da me che sono più etico. Non gliene frega niente, per dire, no? Adesso non so se qualcuno... Ci siamo capiti. Quelli per esempio che ce l'hanno contro Dubai. Ma chi sono i controdubaini ricchi? Queste cose vanno spiegate. Loro si sono scelti questo martello su cui martellare. Pronti, fate, ragazzi, non me ne frega, io sono abbasciatore di Dubai. Cioè, ma non funziona. Non funziona. Se tu avessi sprecato, avessi usato quel tempo che hai sprecato ad avercela sfottere a fare il verso a quelli con la Lamborghini, c'erano ancora su YouTube, fanno i vari, anche i famosi, no? I fuffaguru, come riconoscere uno che... Oltretutto dalle informazioni sbagliate. Oppure oltretutto, parlando magari a volte... Cioè, perché poi, no? Come riconoscere uno che non capisce un cazzo di marketing, per esempio, o di soldi. Per esempio, non ascoltare gli YouTuber che sono poveri. Vede, questa è polarizzante, qualcuno si offende. Però, buon Dio, cioè, come riconoscere uno che non è capace. Per esempio, uno che da anni che ci prova e fa dei video e ancora non ha soldi e vive che un giorno magari li farà. Per esempio, no? È solo un esempio. Ma non gliene frega niente a nessuno. Perché, infatti, non è che dicendolo ti danno più soldi. Perciò fanno già delle azioni... Loro non vorrebbero dire... E lo sappiamo, per esempio, no? Perché... Adesso, ragazzi, ve la dico. Molte delle persone mainstream, YouTuber, insomma, che hanno tante visualizzazioni, che danno in qualche modo contro Abigluca, è una farsa. Non so se l'avete capito. E quindi, se devi fare una farsa, è meglio che tu la faccia in un'altra cosa che però ti fa tornare vendite. Cioè, è molto meglio che tu vada in giro con i bodyguard. Oltretutto, è molto più vero di dare contro Abigluca quando magari ci fai le consulenze insieme. Saluto A, B e C. Perché... Cioè, noi poi c'avamo questo problema qui. Perché, purtroppo, è molto mistificato il mondo online. La gente pensa che quello che vede è vero. Abigluca, sai che parlano molto male di... Ma no, ce li ho avuti in consulenze l'altro giorno. Addirittura alcuni abbiamo fatto la strategia insieme, che gli ho detto. Però non dire questo. No, no, ma io voglio... Se dico Dubai... Se io dico... Guarda che c'è gente che ha fatto queste cose qui. Allora, io do contro Dubai e dico che bisogna restare in Italia. Allora, così, la gente che ce l'ha con Dubai e vede che io sto... Non funziona... Ma è artata quella cosa lì. È artificiale. È un artificio. Solo che non funziona. Io non so se le posso dire, però diciamole. Allora fai degli artifici che funzionano. Se proprio devi lavorare di abbellimento e di strecciatura, lavorami in abbellimento e in strecciatura per qualcosa che magari non ti faccia sembrare un invidioso anti-Dubai. Ripeto, uso Dubai perché riguarda me e così capite. Ma allargatela a qualunque altra cosa, a qualunque vostra nicchia, a qualunque vostro mercato, a qualunque vostra cosa. Forse siano utili queste cose, però... Però poi vedono dall'esterno e dall'interno ci facciamo delle risate perché le cose che voi credete... Ma è una biride perché bisogna anche finirla con certe cose. Però... Ma è una biride perché bisogna anche finirla con certe cose.